ciao ragazzi io sono Hulk e io sono Riccardo benvenuti nel mio canale YouTube oggi vi farò conoscere l'incisore laser Nege 3 Max con un modulo laser da 10 watt questo il modulo e 40 ed abbiamo 810 mm per 460 mm e a differenza di tanti altri incisori laser guardate l'asse X non è in questo senso quindi non si muove per lungo ma si muove in larghezza davvero interessante perché si può posizionare in un bancone quindi controllare l'asse X guardandolo frontalmente ha anche tutto il kit che prevede l'utilizzo dell'air assist automatico che ci permette di eseguire dei tagli e delle incisioni con l'attivazione automatica dell'aria del punto in cui serve ho inciso e realizzato anche questa guida millimetrata da 810 mm poter eseguire dei tagli dritti cambiano inquadratura vi faccio vedere tutta la struttura quello che ho realizzato e qualcosa la faremo anche assieme quindi iniziamo dunque iniziamo come sempre dando un'occhiata generale alla struttura ai componenti eccetera profili in alluminio montaggio semplicissimo come vedete abbiamo degli incastri basta semplicemente abitare questa vite e la struttura è già pronta tutte le cinque sono premontate quindi non dobbiamo fare nessun tipo di lavoro se non un'eventuale regolazione tirando questa cinghia dopo aver svitato questa vite e poi stringerla nuovamente quando la tensione ci sembra buona il movimento avviene su ruote gommate e la regolazione va fatta stringendo una brugola che si trova nella parte inferiore questa è un elettrovalvola che ci permette di attivare disattivare l'aria compressa in base alle impostazioni che daremo tramite light barn quindi nel caso in cui dobbiamo fare dettagli si attiverà in automatico se lo abbiamo prestabilito l'aria arriva tramite questo tubicino che scorre all'interno di questa cinghia carri armato un'altra cinghia carri armato la troviamo da questa parte e quindi conduce l'aria fino al nostro modulo sotto abbiamo il nozzolo che fra poco vi farò vedere e nella parte superiore abbiamo questa ventolina con l'innesto con quattro pin questa è la regolazione dell'asse z una regolazione micrometrica ma è possibile anche regolare la messa a fuoco tramite questa rotellina quindi una volta svitata si può regolare l'altezza e la distanza di messa a fuoco e 5 mm ma non ho trovato in dotazione da di il distanziatore per poter regolare la messa a fuoco quindi mi sono adattato con un pezzo da 5 mm che già possedevo all'interno di questo carro armato scorrono anche i cavi elettrici che come vedete partono da questa scheda che questa protezione in plexiglass che protegge appunto tutti i componenti più delicati lateralmente troviamo anche delle porte tra cui la m8 a cui va collegata l'elettrovalvola e qua sopra troviamo l'innesto per il cavo usb e l'innesto per l'alimentazione ma non abbiamo un tasto di accensione non abbiamo nemmeno un tasto di reset e mancano pure il limite quindi per poterlo accendere basterà semplicemente inserire il cavo di alimentazione e partirà in automatico si avvierà la ventola si accenderà il nostro modulo dopo di che si spegnerà e andrà in stand by ma non si potrà più spostare perché i motori rimangono bloccati quindi per poterlo spostare bisogna farlo da computer oppure staccare di nuovo l'alimentazione elettrica per poterlo muovere agevolmente quindi stacchiamo e in questo caso posso tornare a muoverlo senza nessuna difficoltà ovviamente all'interno della confezione troviamo cavi i cavetti i cavettini occhiali di protezione cinghie di ricambio eccetera eccetera questo per esempio è il fungo di emergenza che va collegato sempre nella scheda che vi ho fatto vedere poco fa che va attivato in caso di necessità quindi si può spegnere riaccendere da questo tasto utilizzando come tasto di accensione spegnimento ma è un fungo di emergenza che non trova alloggiamento direttamente nella struttura quindi bisogna fissarlo eventualmente in questo angolo in modo da poterlo utilizzare come tasto di accensione spegnimento ma nasce in realtà come fungo di emergenza fra poco daremo un'occhiata anche al modulo laser lo guarderemo per bene da vicino ma ci tengo a farvi vedere quello che ha realizzato e daremo un'occhiata anche alle caratteristiche riportate sul sito del venditore guardate quanta precisione abbia questo incisore laser sia nelle cose più piccole per quanto riguarda le normali incisioni e per quanto riguarda le incisioni a livello fotografico ho deciso di incidere questa foto di ulc perché è ricchissimo di chiaro scuro quindi una scala di grigi che richiede una buona qualità di incisore laser e grazie al suo punto minuscolo da 0,06 per 0,06 perfettamente quadrato riusciamo a ottenere questa precisione guardate dettagli in questo braccio tutte le ombreggiature dei vari muscoli eccetera ma pure i capelli insomma ragazzi i denti dettagli del naso mi piace davvero tantissimo sia per quanto riguarda il rispetto dei dettagli che per quanto riguarda le tonalità di chiaro scuro che sono state impresse perfettamente tutto quello che vedete per quanto riguarda le macchie non sono delle macchie del legno ma sono effettivamente delle macchie che erano presenti nel file e le ha riportate perfettamente in tutta l'incisione quindi un lavoro eseguito davvero molto molto bene ma vista l'incisione a livello fotografico passiamo oltre e guardiamo l'incisione realizzata su questo pezzo di mdf lungo 80 cm quindi 800 mm e con il quale ho realizzato una guida millimetrata per tagli dritti ho inciso il mio logo tra l'altro ha dato un ottimo rilievo quindi questa incisione è scavata si sente con l'unghio tutti i numeretti incisi benissimo e anche per quanto riguarda ovviamente le linee e riempimento di questa scritta tutto fatto davvero molto molto bene da questa parte come vedrete anche da alcune inquadrature è come si vede anche ora il pezzo purtroppo è imbarcato è un pezzo di scarto che ho voluto riciclare dargli una nuova vita però essendo imbarcato ovviamente l'incisione da questa parte non era messa a fuoco perfettamente nonostante tutto è inciso bene considerate che un incisore laser con un fuoco fisso e con uno short focus quindi non è in grado di tagliare dei pezzi molto spessi non perché gli manchi la potenza ma semplicemente perché come tipo di incisore laser non ha la lunghezza focale adatta per poter tagliare grossi spessori ma per quanto riguarda il taglio normale di pezzi fino a 36 massimo 8 mm non dovrebbe avere problemi quindi facciamo una cosa guardiamo direttamente qualche caratteristica sul sito del venditore dopodiché facciamo la prova a fare dei tagli e delle incisioni di dei pezzi piccoli ma con spessori differenti e allora guardando quindi le specifiche tecniche vediamo che il tutto l'incisore laser a una dimensione di 59 cm x 98 cm x 16 cm di altezza l'area di lavoro invece 810 x 460 mm è sensibile ulteriormente quindi fino a 810 x 1030 mm un'accuratezza di 338 dpi e una precisione di lavoro di 0,01 mm oltre alla porta m8 che vi ho fatto vedere poco fa e a cui è collegata all'elettrovalvola per l'era assist automatico abbiamo anche la porta m7 che serve per attivare in automatico un eventuale aspiratore e il prezzo ovviamente varia in base al tipo di modulo che sceglierete il paese di spedizione eccetera in questo caso 579 euro con questo modulo laser quindi nage e 40 riportato in questo menu se cambiamo tipo di modulo scegliamo l'altro in questo caso il prezzo varierà e da 570 diventerà 599 euro ma ora concentriamoci sul nostro modulo allora stacco questo cavo è un cavo come ho detto poco fa a 4 pin svitiamo questa vitina ed estraiamolo dalla sua sede nella parte bassa troviamo questo nodo che ovviamente si sporca ma anche perché molto vicino alla zona di lavoro essendo solo 5 mm per quanto riguarda la distanza di messa a fuoco quindi ricordatevi ogni tanto di pulirlo se questo nodo non viene pulito ogni tanto ovviamente questa parte si ostruirà impedendo la corretta fuoriuscita dell'aria ma soprattutto impedendo la fuoriuscita del fascio del laser il corpo del modulo laser è tutto in alluminio molto compatto lineare da questa parte troviamo dei fori per poter eventualmente rimuovere questo vetrino effettivamente filtra il raggio dannosi e laser e mi ha permesso di guardare senza avere alcun tipo di fastidio comunque sia come riportato anche da questa parte vi consiglio sempre di utilizzare degli occhiali protettivi specifici per questo tipo di laser e vi lascerò il link anche nel primo commento e nella descrizione per poterli acquistare prima di iniziare però voglio farvi vedere alcune riprese dettagliate alcuni time lapse durante alla realizzazione sia di questo hulk che è la realizzazione di questa guida millimetrata ho preparato questi file questa sala da tiro dinamico e questi pezzetti alternati che dovranno essere fatti sia con l'air assist che senza era assist in modo da farvi vedere durante la realizzazione come si attiva in automatico l'elettrovalvola innanzitutto devo accendere il mini compressorino ok forse sentite il ronzio comunque sentirete sicuramente l'elettrovalvola che si attiva selezioniamo tutto il progetto facciamo un frame tra l'altro questo modulo rimane con il puntino laser sempre attivato diamo l'ok e sentiamo questa elettrovalvola come si attiva dopodiché realizzerà il taglio e sentirete l'elettrovalvola e vedrete pure che si attiva l'air assist dalle linee invece che faremo qua a fianco quindi sulla si ecco adesso si è attivata l'elettrovalvola avete sentito essere seguendo il taglio perché si vede la luce del laser che passa da sotto ho impostato quattro passaggi ma in realtà sarebbero sufficienti anche tre passaggi ok infatti è già tagliato sta facendo un ulteriore passaggio comodissima questa valvola che apre in automatico il passaggio dell'aria permette di eseguire dei tagli senza avere i classici segni di bruciatura zoomiamo in modo da vedere la linea e questa è la linea del taglio quasi attaccata alla linea del contorno della sagoma abbiamo mezzo millimetro guardate che precisione e non abbiamo segni di bruciatura perché l'air assist permette di eseguire questi tagli tranne nei due forellini nella parte centrale perché sono da un millimetro e quattro passaggi effettivamente sono eccessivi forse avrei dovuto rifletterci prima comunque come vedete sta tagliando perché il laser si vede perfettamente siamo al secondo passaggio al terzo sicuramente si staccherà stiamo eseguendo questo taglio all 85 per cento di potenza 200 mm di velocità 200 mm al minuto ovviamente qualche scena la metto accelerata e adesso sta facendo le linee a 100 mm al minuto quindi molto lentamente però con una potenza ridotta del 60 per cento per farvi vedere la differenza tra linee eseguite con l'air assist linee eseguite senza l'air assist ma soprattutto l'attivazione automatica dell'air assist nella parte posteriore dell'elettrovalvola è presente questo led che nel caso in cui sia aperto ce lo conferma tramite la sua accensione invece quanto è spendo ovviamente vuol dire che l'elettrovalvola non si è accesa e questo è comodo perché anche nel caso in cui osserviamo da lontano mentre il laser sta lavorando possiamo renderci conto se effettivamente funziona oppure no comunque come vedete 60 per cento di potenza 100 mm al minuto stava tagliando queste invece sentendo la differenza anche la formazione eccessiva di fumo sono i passaggi senza l'air assist dopodiché guarderemo anche la differenza la pulizia dei tagli comunque delle linee eseguite con l'air assist e delle linee seguite senza air assist come vedete c'è un abisso quindi un'elevatissima differenza sia nella pulizia del taglio si distinguono a colpo d'occhio le linee in cui c'era l'air assist e le linee in cui l'air assist invece non era stato attivato adesso in genero un logo della sd di tiro dinamico sportivo nel retro di questa sagoma dopodiché faremo delle prove per tagliare un pezzo da un centimetro e allora ho staccato il pezzo appena ritagliato con questa pinzetta e ho sfruttato lo spazio che è rimasto per ribaltare la sagoma e quindi fare l'incisione nello stesso punto queste sono tutte riprese in tempo reale e tra l'altro considerate che questo è il retro del pannellino che non è nel levigato rifinito di fabbrica e nemmeno mi sono occupato io di fare alcun tipo di levigatura quindi appena si sposta il modulo vedremo che risultato abbiamo ottenuto anche in questo caso ottimo risultato sia da questa parte con i due fori passanti che simulano i colpi andati a bersaglio e da questa parte il logo della sd kirk and shooting club guardiamo un pochettino meglio risultati che abbiamo ottenuto con il confronto tra era assist attivo era assist non attivo e nella parte posteriore come vedete in alcuni punti stava tagliando e stava tagliando solo dove c'era l'era assist attivo quindi oltre alla pulizia di taglio le rassi se ci permette di tagliare con più facilità queste sono tutte le impostazioni che ho utilizzato sia per realizzare le incisioni che per realizzare le linee e i tagli questi sono i pezzi che abbiamo appena fatto 100 mm al minuto 60 per cento di potenza e il resto è eseguito comunque da velocità relativamente alta l'immagine di hulk invece l'inciso a 4000 mm al minuto 60 per cento di potenza senza air assist questo è un pezzo di abete 10 mm proveniente da una perlina stiamo lavorando con 100 mm al minuto 90 per cento di potenza facciamo il frame perfetto dopodiché diamo play sono dieci passaggi vediamo in quanti passaggi si si stacca il pezzo abbiamo attivato anche l'era assist se mette a fuoco ancora meglio questo è il primo passaggio sembra che sia arrivato quasi a metà secondo passaggio terzo passaggio sembra sembra di sì vediamo se si stacca no proviamo con il quarto è fuoco corto quindi potrebbe non farcela effettivamente tre passaggi e forse neanche quattro vediamo non vorrei ci fosse un nodino perché queste perline spesso hanno questo problema quindi io lo interrompo perché comunque siamo andati oltre quello che io sono disposto ad aspettare per un taglio e infatti ragazzi era tagliato come vedete ma non so per quale ragione non si stacca scusatemi lo stavo inquadrando c'era un pezzettino che lo manteneva ancora attaccato probabilmente il laser non arrivava però si è visto che si era staccato quindi si vedeva il passaggio siamo arrivati al quattro passaggi possibilmente con tre appunto due tre passaggi comunque non è un lavoro normale per questi incisori laser sono delle prove che faccio semplicemente per farvi vedere di cosa sono capaci e in questo caso è riuscito a tagliare perfettamente 10 mm e allora ragazzi quindi cosa dire di questo incisore laser hulk mi ha detto che se non vi piace si arrabbia a me piace tantissimo ragazzi funziona davvero molto bene preciso per quanto riguarda sia i disegni per quanto riguarda le scritte i tagli eccetera eccetera sui tagli abbiamo visto non sono il suo forte ma non perché gli manca la potenza semplicemente perché è un tipo di modulo a fuoco corto gli incisori laser a fuoco lungo si riconoscono anche dal fatto che la distanza di messa a fuoco sia maggiore in questo caso abbiamo una distanza di soli 5 mm quindi fuoco corto che non permette di ottenere dettagli su spessori elevati ma come avete visto per realizzare la piccola sagoma siamo riusciti senza nessun problema hulk eppure felice ma l'ha detto poco fa spero che questo video vi sia piaciuto mi invita ad iscrivervi al mio canale cliccate sul link perché potrei lasciarvi anche un codice di sconto iscrivetevi lasciate anche un commento così fatemi sapere cosa ne pensate di questo incisore e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto